Come riporta anche la app di OneFootball, il Milan è partito intorno alle 14.30 dall'aeroporto della Malpensa, solito Terminal 2, destinazione Cardiff, dove domani sera giocherà alle 18.30 il terzo match e ultimo dell'ICC contro il Manchester United, telecronaca su Sport Italia alle 18.30, con la mia telecronaca insieme all'amico Fabio Bazzani. Ma volevo darvi in anteprima il soprannome di Leao, Leao giocatore che ha avuto qualche critica per il suo atteggiamento piuttosto diciamo ombroso, ecco l'aggettivo, ombroso al suo arrivo alla Malpensa, eravamo là, non ha sorriso, allora hanno incominciato qualcuno a criticarlo, ma come non sorride, viene al Milan, non è qualcuno ha scritto, non è il suo primo giorno di scuola in una scuola dove non gli piace andare e poi lui viene con l'uscita nello stesso giorno di Cutrone, quindi i cutroniani, tanti cutroniani affezionati al modo di essere, al milanismo, al cuore rosso-nero, giustamente, del pungiglione, sono stati critici nei confronti di Leao, visto il paragone. Però Leao intanto è partito anche lui per stare insieme ai compagni, sta legando molto con i compagni, incomincia a sorridere, è un ragazzo di vent'anni, attenzione, è un ragazzo di vent'anni proiettato in una realtà importante come Milano. E ho subito pensato il soprannome, non facile, qualcuno me l'ha suggerito, è anche bello Leao, Meravigliau, però diciamo la verità, è un po' scontato, un po' troppo facile, l'hanno già detto, niente di originale. Poi ho pensato a qualche animale rapido, l'antilope, visto che è veloce, l'antilope, oppure anche la pantera, mosse filine di questo giocatore che secondo me divertirà molto il pubblico sia come prima o seconda punta. Poi però ho visto l'esultanza, questa esultanza, e ha spiegato lui, lo ha spiegato proprio ieri, ha detto io al gol faccio così come se telefonassi a mia mamma o mio papà, guarda che ho segnato. E allora mi è venuto in mente qualche soprannome legato al telefono, poteva essere drin drin Leao, poteva essere allo Leao, e invece c'è un vecchio film, sapete come lo chiamerò? E' così. Non avrò occasione magari di urlare a un suo gol, al gol di Leao, però tira Leao, fa gol, senti chi parla, Leao, ecco il soprannome, senti chi parla, Leao, e adesso lo metterò anche sul mio Instagram, senti chi parla, Leao. Spero che vi piaccia e altrimenti datemi qualche suggeramento, ma senti chi parla, Leao, dopo un gol mi piace tanto. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegrini.